Benvenuti in questa nuova contro rassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dei media euro atlantisti. Iniziamo da un grandissimo mistero, punto di domanda. Potrebbe essere morto il primo pilota di F-16, pilota ucraino addestrato in occidente con al seguito il velivolo di produzione americana a stelle e strisce. Potrebbe essere scomparso a causa di un attacco missilistico russo nella regione Oblast dell'Ucraina centrale del 91 di Khmelnytsky, il tenente colonnello ucraino Alexei Meschia. Secondo quanto riferito all'inizio, almeno poi anche da altri canali telegram ucraini, fonti ucraine mediatiche, ma la prima, la principale, Icor Polischuk, che è un consigliere comunale per la città di Lutsk, non molto lontana, riferito proprio a lui su Telegram. Più tardi il suo stesso messaggio è stato cancellato, quindi mistero sulla veridicità del tutto. Meschia, quindi il pilota, faceva o fa parte della 114esima brigata per quanto riguarda l'aviazione tattica ucraina. Lui che era o che è vicecomandante della stessa unità militare, è stato addestrato in Europa occidentale e in Nord America, secondo quanto scritto da diverse fonti militari ucraine. Quindi il primo F-16 potrebbe essere stato distrutto nella regione di Khmelnytsky dai russi, nei pressi dell'aeroporto della città di Stara Konstantinov, di cui ho parlato nell'ultimo video proprio. Durante un attacco missilistico russo, sapete che nelle ultime 3-4 giornate, notti soprattutto, i russi stanno attaccando un po' in tutte le regioni dell'Ucraina, sotto ancora il controllo dell'esercito Afu di Sierski. A riferire di questa notizia, anche per quanto riguarda l'F-16, anche il canale Telegram militare ucraino Shot, quindi un nome inglese. Se avete la foto del pilota che sarebbe coinvolto, in basso anche il messaggio su Telegram della notizia, tutta da verificare. Quindi un enorme punto di domanda, come ho detto all'inizio di questa rassegna. Cosa potrebbe essere successo? Dopo un primo attacco russo nella stessa zona di Khmelnytsky, diversi caccia F-16 e di derivazione sovietica in mano agli ucraini sono decollati per difesa aerea. Infatti Zelensky ha proprio riferito che gli F-16 sono e saranno utilizzati per la difesa aerea, quantomeno soprattutto in gran parte, e non per funzioni d'attacco contro i russi. E quindi questi velivoli hanno girato per due o tre ore intorno all'aeroporto, prima citato. Come sono tornati proprio sulla pista ad atterraggio dell'aeroporto di Stara Konstantinov, i russi hanno ripetuto l'attacco missilistico con droni e avrebbero forse distrutto questo primo F-16 con dentro, quindi eliminato anche il pilota ucraino. Per questo motivo, secondo diverse fonti russe, Kiev avrebbe d'urgenza richiamato un'udienza, un incontro ufficiale NATO-Ucraina, un consiglio NATO-Ucraina, come avrete letto, poi dalla stampa italiana principale. Adesso questo articolo mi si è ricaricato di Portfolio, che è una testata filoucraina-ungherese, non neutralista, come per quello che succede per i giornali, gran parte dei giornali filo-governativi, filo-Orban-Fidesz. I russi hanno accelerato nel frattempo l'avanzata in Donbass, nella solita zona verso Pokrovsk, siamo a ovest della città di Danies, quindi in DNR. Si preparano, sono forse già entrati addirittura, secondo alcune fonti russe, nel centro, nella periferia di Selidov, una cittadina molto importante per quanto riguarda la solita logistica militare ucraina. C'è lo stupore della avanzata russa sempre più veloce e quindi magari la mancanza di vere e proprie linee difensive costruite dagli ucraini sin dal 2014, come succede per la grande linea Kramatorsk-Sloviansk, di cui parlo da ormai mesi se non anni, di Julian Röpke, l'abbiamo visto ieri. Insieme, giornalista della Build, analista di Osint, filo ucraino, vedete anche dalla bandiera su Twitter, su X, e la mancanza di linea difensiva ucraina che potrebbe, secondo anche lui, che è un po' scioccato, diciamocelo, l'armata russa e non rossa potrebbe avanzare liberamente per decine di chilometri fino alla famosa linea difensiva citata prima, Sloviansk-Kramatorsk, e andare a conquistare non più molto molto lentamente tutto quello che rimane, circa il 40% dell'oblast della DNR, della Daneska-Narodnaya Repubblica, Repubblica Popolare di Daneska, e quindi completare sostanzialmente la conquista del Donbass, che è un po' una delle cause degli obiettivi principali militari prefissati da Putin, dai russi in generale. Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri Russo, il regime terrorista di Kiev, con questo nessuna possibilità ora di andare a Taryolni a trattare per un cessato il fuoco in tutta l'Ucraina in questo conflitto, operazione militare speciale, che dir si voglia, proprio per quello che è successo all'attacco in Russia di Kursk, l'attacco terroristico secondo quanto riferito, secondo la prospettiva della Zakharova del Kremlin. Dice lei ai giornalisti, né Kiev, né gli Stati Uniti d'America, né la Nato, nei tirapiedi della Nato, scusate, testuali parole, nessuno vuole, ha bisogno di un cessato il fuoco, di trovare un ordine, una soluzione diplomatica a questo conflitto scontroarmato. hanno solo l'interesse ad allargare il conflitto per provocare più danni possibili alla Russia e quindi indebolirla militarmente in vista forse di uno scontro che Dio non voglia, Stati Uniti, Cina. E quindi hanno tutto l'interesse a escolarli, quindi ad allargare il conflitto dall'Ucraina ad altre nazioni, renderlo sempre più combattuto con armi sempre più potenti a lungo raggio. E quindi, dice la Zakharova, si allarga, si espande la rete, il movimento terrorista internazionale occidentale dell'Occidente allargato, di cui l'America è il fertilizzante e il terreno, l'humus potremmo dire in italiano, è il continente europeo, è il vecchio continente. Ancora però, questa volta il portavoce del Kremlin, Dmitry Pieskov. È comprensibile il fatto che Trump, candidato a tornare presidente della Casa Bianca da gennaio prossimo, ci sono le elezioni a novembre, avrebbe paura della terza guerra mondiale, o quanto meno c'è un piccolo, piccolissimo timore. Proprio per quanto succede dell'invasione ucraina della Russia a Kursk. Quindi la situazione è peggiorata, si è aggravata e la pace è più lontana. Dice Pieskov, reagendo a uno degli ultimi comizi della campagna elettorale di Donald Trump. Dice ancora Pieskov, l'Occidente è fino al collo immerso nel conflitto direttamente, quantomeno molti paesi dell'Alleanza Nord Atlantica, visto anche quello che ha detto Stoltenberg ieri. Per questo motivo, dice Pieskov, c'è molta preoccupazione da tutti i lati in questo conflitto, anche al Kremlin per gli sviluppi drammatici che potrebbe prendere questa guerra, questo conflitto. L'Ucraina ha sviluppato, l'avrete letto, e vediamo la reazione preoccupante di Visagra-24, profilo americano-polacco-ultraatlantista-anafo su X. L'Ucraina ha sviluppato il primo missile balistico domestico ucraino, qui nessuno parla di missile di aiuti americani e europei dell'Unione Europea in generale della Nato, mentre per i russi, se i russi sviluppano qualcosa di nuovo, automaticamente ci sono gli iraniani, ci sono i nordcoreani, ci sono i cinesi, mistero. Raggio d'azione di questo nuovo missile balistico, più di 700 km, e consiglia Visagra-24, preannuncia possibili attacchi missilistici contro Mosca, di non voglia contro il Kremlin, per le reazioni che sicuramente ci sarebbero. Si, Arto Peter, a proposito, Ministro degli Estri Ungheresi, cosa scrive su Facebook? Nelle ultime giornate, notizie sempre più preoccupanti per la sicurezza del vecchio continente, in Germania l'attacco di Solingen, quindi col coltello. L'Unione Europea, il capo della diplomazia, Joseph Borrei, quindi commissario, l'alto rappresentante per la politica estera, ha esortato i paesi occidentali a dare il permesso all'Ucraina di colpire con armi occidentali, a lungo raggio, il territorio russo sempre più in profondità. Poi chiude il Ministro Ungherese. Domani, cioè oggi, giovedì 29 agosto, inizia l'incontro, il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'UE a Bruxelles. Nel fine settimana ci saranno le elezioni nei Lenda tedeschi, stati federati in Turinja e Sassonia, bel quadretto della situazione nelle ultime ore, nelle prossime ore, da parte del capo del di Castero Maggiaro. L'ambasciatore oppositore di Orban, l'ambasciatore americano in Ungheria, David Pressman, ancora contro il primo ministro ungherese. La beca missio, la missione di pace di qualche settimana fa di Orban, anche a Mosca, anche in Cina, ma anche dalla Nata a Washington, da Biden, anche in Ucraina, sarebbe solo una performance secondo quello che dovrebbe essere il capo della diplomazia stellestrisce in Ungheria. Cosa ha detto la televisione conservatrice Maggiara privata? Ier Teve ha risposto al volo a una domanda. Il viaggio, soprattutto quello di Mosca, di Orban Victor, sono sicuro che non porterà altri politici di spicco a fare lo stesso e non seguiranno mai quindi la cosiddetta politica di pace di Orban, che in realtà di pace, non è, è pace finta, secondo l'uomo che vedete, attivista LGBT, messo da Biden o da chi per lui a capo della diplomazia dell'ambasciata americana a Budapest. Confondi ungheresi perché l'Ungheria è cattiva con l'Ucraina, l'Ungheria odia all'Ucraina, il popolo ucraino, come no? Infatti arrivano circa 20.000 persone dall'Ucraina ogni giorno, sia indirettamente dalla Romania che direttamente dall'Ucraina, come stiamo vedendo in questo canale insieme ogni giorno ormai, e i numeri crescono per la situazione disperata del popolo ucraino, in Ucraina, per questa guerra. Confondi pubblici ungheresi, ieri è stata aperta la prima scuola in lingua ucraina per i bambini, per i profi ucraini a Budapest. E quindi l'Ucraina ha reagito così, un raro gesto di amicizia, di umanità dal governo Orban. Raro. Noi che paghiamo per circa 30.000 profi che vivono come tali in Ungheria, e che permettiamo poi il transito ormai a milioni di persone dall'Ucraina verso l'ovest europeo, attraverso il nostro territorio, con i nostri primi aiuti. Grande guadagno, enorme guadagno, un balzo nei guadagni, Bevetel, in ungherese, di un istituto dell'ex, poi impiegato, del capo di un partito dell'opposizione ungherese ultra-europeista Momentum, di Donat Onno, che vedete in foto. L'Unione per l'aiuto ai migranti e richienti asilo, si chiama così questa specie di ONG, ha preso sempre più dollari euro da Bruxelles, dalla rete Soros, soprattutto, quindi anche dalla Commissione Europea. E ha partecipato, la stessa unione organizzazione, alla poi scrittura dei vari documenti, dei vari rapporti contro il governo ungherese per xenofobia, per maltrattamento di richiedenti asilo, guai a chiamarli illegali. Come scrive Modior Nemset, nel 2023, quindi le entrate di questa organizzazione accogliente, tra virgolette, è aumentata ai circa 100 milioni di fiorini, 250 mila euro, a quota 343,9 milioni di fiorini, quasi un milione di euro. Mistero, quindi, sul perché. Chi guida questa unione? L'ex consigliere, mettiamola così, di donata a una politica importante di opposizione europeista ungherese. Erkéin Ontol, professore merito alla Università di Budapest-Telt, è famosa, e professore, come si può dire, ospite, professore ospite, alla Central European University di Soros, di Budapest e di Vienna. quindi l'Università di George Soros, per capirci. Nel 2015, lui, durante la crisi migratoria, ha accusato il governo Orban di campagna diffamatoria contro i richiedenti esili d'odio, addirittura xenofoba, poi, negli anni a venire, in seguito di omofobia e di essere troppo legati alla Russia, e soprattutto alla Cina, per la costruzione dell'Università a Budapest, Fudan, Per chiudere, ciliegina sulla torta, dalla parte dell'Occidente Democratico, dello Stato di Rito Europeo, che non c'è in Ungheria, ricordo tutti, perché siamo una democratura, la Chiesa Cattolica tedesca, che è molto più regressista rispetto a quella di Roma, sia ben chiaro, chiede agli elettori cristiani in Germania, nei tre lenda, dove si vota fra pochi giorni, settimane, a seconda dei casi, di non votare per il partito AFD di destra, perché non è leggibile, scrive il Frankfurter Allgemeine Zeitung. La conferenza episcopale, il presidente della Chiesa Cattolica tedesca, un certo Georg Betzing, ha detto che il partito alternativo per la Germania va contro gli ideali cristiani della solidarietà soprattutto, a dirlo a Tage Spiegel, se la prende lo stesso capovescovo con il partito di Sarah Wagenknecht, quindi a sinistra questa volta. Partito amico di Putin e chi è amico di Putin mette a repentaglio la sicurezza e la pace nel vecchio continente. Imparzialità totale. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modio e Rorsag.